Benvenuti nell'era della scarsità. Non sono un pessimista, sono assolutamente un ottimista, ma quello di cui vi parlerò oggi è un problema a cui dobbiamo prestare molta attenzione, forse più attenzione di quella che abbiamo prestato fino ad oggi. È il tema della sicurezza alimentare. Il tema della sicurezza alimentare è intesa come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari. Se noi guardiamo quello che ha caratterizzato la storia, la storia, diciamo, del mondo occidentale, e lo sintetizziamo in questa diapositiva, guardiamo che dagli anni Sessanta, diciamo dal dopoguerra, fino alla fine degli anni Novanta, i prezzi delle principali commodi di agricole scambiate nel mondo sono sempre calati, sono sempre diminuiti. E questo è stato il frutto di una straordinaria capacità di innovazione, di tecnologia, di aumento della produttività delle risorse che ha portato ad una crescita dell'offerta alimentare, dell'offerta di cibo, superiore a quella che era l'offerta della domanda solvibile, della domanda con le risorse economiche per poterli acquistare. Poi succede un fatto nuovo. Dalla seconda metà degli anni Novanta, possiamo dire, è finita un'era, l'era dell'abbondanza, l'era in cui il cibo era così abbondante che non sapevamo come consumarlo, come utilizzarlo. Erano gli anni in cui l'Europa, tutto il mondo si preoccupava, mondo occidentale, di come eliminare queste eccedenze di produzione. Abbiamo ancora in mente quei trattori che distruggevano il prodotto, il prodotto che era talmente tanto abbondante che le stesse politiche erano rivolte alla riduzione della produzione perché altrimenti non sapevamo come collocarlo. Poi dalla seconda metà degli anni Novanta entriamo in quella che noi abbiamo definito l'era della nuova scarsità. Che cosa succede? Succede, e forse non abbiamo ancora la percezione di quanto importante sia questo, succede che il mondo incomincia a domandare cibo ad un ritmo superiore di quanto il mondo non sia in grado di produrre. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che una larga parte della popolazione mondiale, fino a ieri sostanzialmente esclusa dai consumi, possiamo dire che si accontentavano di una manciata di riso, ha incominciato a domandare più cibo. E questa è una prima considerazione che forse merita qualche sottolineatura, perché non c'è differenza di razza, di religione, di colore della pelle, ma quando il reddito pro capite aumenta, la gente consuma di più e consuma più prodotti zootecnici, consuma più latte e consuma più carne. L'abbiamo chiamato il BRIC Food Break. BRIC sta per Brasile, Russia, India e Cina. Qui ci sono alcuni numeri che vi mostrano com'è profondamente mutato il consumo di alcuni prodotti alimentari importanti. Pensate soltanto in Cina i consumi di carne che sono cresciuti da 20 a 54 kg pro capite. Potrebbe sembrare un'enormità, ma non sappiamo che noi in Europa ne consumiamo 85 kg pro capite. e che negli Stati Uniti consumiamo più di 100 kg pro capite di carne. E voi sapete che per produrre una proteina animale occorrono fino a 7-8 proteine vegetali. Quindi la crescita della domanda alimentare di prodotti zootecnici, latte e carne, fa moltiplicare la domanda di cereali, di soia, di mais. L'India, la domanda di latte continua a crescere a un ritmo anche negli ultimissimi anni sta sopra il 5% all'anno. Pensate l'India, che è uno dei più grandi produttori mondiali, nel 2014 diventerà importatore netto di latte. Sta succedendo qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Perché se noi semplicemente facessimo un trasferimento numerico, la dieta del mondo occidentale, Europa più Stati Uniti, pro capite, la trasferiamo, tukur, alla sola Cina, al solo miliardo e mezzo di cinesi, bene, noi avremo bisogno di 6 pianeti. Qualcosa che ci deve preoccupare. Allora, incominciamo a preoccuparcene con un fenomeno nuovo, un fenomeno che in realtà conosciamo tutti molto bene dall'era dello sviluppo industriale, dell'industrializzazione, è il problema di come gestire questo suolo. Suolo che sta diventando sempre più scarso. Perché noi lo occupiamo con le città, lo occupiamo con le industrie, con le infrastrutture, lo occupiamo anche per produrre energia. Fenomeno che ha, diciamo, allarmato moltissimo al punto da incominciare a mettere un freno anche a queste pannelli fotovoltaici che hanno occupato decine di migliaia di ettari nel nostro paese, ma anche in altri paesi in Europa. E questa è la competizione dell'uso del suolo. Noi stiamo aumentando in termini di persone. Pensate che ogni giorno che passa sono 220.000 persone in più da sfamare. E soprattutto sono 220.000 persone in più da sfamare che hanno un reddito maggiore e che quindi domandano sempre di più una quantità di cibo simile a quello che noi ricca e opulenta società domandiamo. Allora il problema è la vera e propria corsa alla terra. E questo è un fenomeno che passa anche questo abbastanza inosservato in Europa e sicuramente poco analizzato in Italia. E riguarda il come i cittadini del mondo che sono più preoccupati del futuro, che sono più preoccupati di come dovranno soddisfare la domanda di cibo di domani, stanno incominciando a comprare o a affittare terra nel mondo. Il fenomeno, qui rappresentato con queste linee, fa vedere che questa preoccupazione ha portato negli ultimi anni ad una quantità stimata, credetemi, in difetto, di 71 milioni di ettari acquistati o affittati dalla Cina, dall'Arabia Saudita, in giro per il mondo. Stiamo parlando di una superficie enorme. Sono circa quattro volte il nostro paese, quattro volte la superficie agricola del nostro paese. E' il fenomeno del land grabbing, letteralmente accaparramento di terra. E questo fenomeno sta avvenendo abbastanza all'insaputa di tutti noi, tanto che incominciamo anche nei grandi consensi internazionali. Pochi giorni fa, al G8, a Camp David, è stato il presidente Obama a dire che occorre riflettere sulla food security, occorre fare un accordo internazionale su questo tema della insicurezza alimentare. Altrimenti continueremo ad assistere, più o meno distratti, a una sorta di neocolonialismo, o un neocolonialismo, se volete, un colonialismo del terzo millennio. Certo, dietro questi fenomeni non tutti sono negativi, a volte ci sono investimenti che portano infrastrutture, che portano aumenti della produzione, ma a volte portano anche fenomeni drammatici, come sono stati denunciati più volte in Etiopia, in Eritrea. Pensate che queste acquisizioni o questi affitti a volte riguardano superfici enormi, decine di migliaia o centinaia di migliaia di ettari, che vengono evidentemente destinati poi alla produzione agricola o alla produzione di energia. Fenomeni che avvengono ovviamente nell'unica parte del mondo che oggi è più o meno vergine, l'Africa. Il resto del mondo, salvo qualche piccola isola in qua e là, è quasi tutto interamente coltivato. E quindi è in Africa che si sta manifestando questo fenomeno di vero e proprio accaparramento di terra. Come fare? E beh, come fare? Peter Diamandis poco fa ce lo diceva. Dobbiamo tornare a investire in ricerca, in innovazione. Occorre una nuova rivoluzione verde. E qui forse ci sono dei dati che non conosciamo. Il mondo, proprio perché il mondo è figlio ancora dell'era dell'abbondanza, non investe più in ricerca, in agricoltura. Guardate il grafico, quello con le colonine blu, è continuamente in calo il tasso di crescita nella spesa per ricerca agricola. Siamo passati, infatti, da indici di produttività delle risorse, terra soprattutto, acqua, che negli anni 60-70, ce li ricordiamo, gli anni della rivoluzione verde, la produttività agricola cresceva a tassi straordinari, il 3-4%. È stato proprio quello straordinario crescita dell'aumento della produttività e quindi della produzione che ha portato agli anni dell'abbondanza, agli anni delle eccedenze di produzione. Poi, poi il mondo si è fermato. Oggi i tassi di produttività sono meno dell'1% in Europa, poco più dell'1% negli Stati Uniti. E pensate che il mondo continua a domandare cibo anche in questa fase di crisi economico-finanziaria intorno al 3-4% all'anno. Ci sono delle eccezioni. Guarda caso, le eccezioni sono in Cina, dove il tasso di crescita invece è significativamente aumentato come investimenti in ricerca, riguarda il Brasile e riguarda l'India. Noi ci permettiamo il lusso invece in Europa di guardare alla ricerca come un fatto secondario. Pensate solo al tema, al grande tema delle biotecnologie. Noi non vogliamo i prodotti OGM, siamo contrari, abbiamo una volontà larga in Europa, contrari, abbiamo anzi chiuso molte porte alla ricerca. Eppure il resto del mondo, e in particolare in Cina, in Brasile e in India, gli investimenti riguardano le biotecnologie. E riguardano il come produrre, aumentandone la produzione, ma riducendo l'inquinamento. Perché la grande sfida di oggi è riuscire a produrre di più, ma inquinare meno. E questo, le biotecnologie, possono dare una risposta. Non sono la risposta, ma certamente possono dare una risposta. Ed è il tema con cui moltissime innovazioni tecnologiche riguardano proprio come riuscire a produrre con meno acqua, come riuscire a produrre difendendosi dalle malattie, e come riuscire a produrre in territori assolutamente esclusi, fino a ieri, alla produzione agricola. Per questo occorre più ricerca, più investimenti, più capacità di affrontare il problema con quell'ottimismo che il futuro ci può dare. Il tema è un tema complicato perché sta davvero spostando il mondo, sta girando il mondo alla rovescia. Fino a pochi anni fa è iniziato il grande dibattito mondiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ce lo ricordiamo, il Seattle Round, abbiamo visto durante quegli incontri quanto c'è stato i riflettori intorno a quegli incontri. Il tema era voi occidentali mettete del protezionismo, fate del protezionismo la vostra politica, dovete aprire le frontiere per riuscire a importare di più dai paesi poveri. Ve lo ricordate? Il tema classico del protezionismo occidentale. Ebbene, sono passati pochi anni, ma sembra che il mondo si sia completamente rovesciato. Oggi il problema è che i paesi che detengono le risorse, che detengono la materia prima, mettono tasse all'export. Ce lo saremmo mai immaginato fino a pochi anni fa. La Russia è il terzo esportatore mondiale di cereali, ma preoccupato della crescita dei prezzi e del fatto che questa grande produzione esca totalmente dalla Russia per andare nei ricchi mercati asiatici, ha introdotto delle tasse all'export, come ha fatto l'Ucraina, come ha fatto l'Argentina, come hanno fatto una serie di paesi. Naturalmente tutto ciò non fa altro che ulteriormente aumentare lo squilibrio nei mercati e non fa altro che aumentare ulteriormente la tendenza alla volatilità dei prezzi e a favorire fenomeni speculativi. Questo è il grafico che vi mostra le tendenze del prezzo delle principali commodi di come risentono proprio di questi comportamenti, come risentono di alcuni fenomeni del cambiamento climatico che sono avvenuti in Australia o gli incendi in Russia, ma anche delle limitazioni all'exporto. Fenomeni che in qualche modo, fino a qualche anno fa, erano assolutamente inimmaginabili. I paesi ricchi del mondo, capaci di esportare, che oggi, preoccupati che questo incremento dei prezzi porti via le materie prime, mettono delle limitazioni all'exporto, introducono delle barriere all'exporto. Il numero degli esportatori intanto sta radicalmente riducendosi perché il mondo aumenta la produzione, aumentano i paesi che hanno bisogno di cibo, i paesi che esportano sono sempre meno e questo crea un ulteriore fenomeno speculativo perché basta una piccola variazione, un piccolo cambiamento o una decisione sbagliata tipo una tassa all'export che immediatamente registriamo un'impennata dei prezzi. Le scorte, per farvi un esempio, in Arabia Saudita, un paese solvibile, aveva scorte di cereali per 3-4 mesi, oggi le scorte di cereali in Arabia Saudita sono per due anni. Quindi, quando si esercitano queste domande sul mercato di paesi solvibili, immediatamente il prezzo schizza. E adesso siamo in una nuova fase di alternanza di questi prezzi, di questa drammatica volatilità. Il tema è cosa fare. Ecco, cosa fare? Innanzitutto più tecnologia, come dicevamo prima, una nuova rivoluzione verde, sicuramente più ricerca, sicuramente guardare alla ricerca con un occhio meno fondamentalista, più laico, più aperto. Dalla ricerca possono venire tutte le risposte, o la gran parte delle risposte, ai nostri problemi di scarsità. E poi ci vogliono politiche alimentari globali, ci vogliono politiche gestite assieme. pensate a cosa potrebbe essere se la politica agricola europea può essere in sintonia, può essere organizzata, fatta in sintonia con la grande politica agricola americana, con il Far Bill. Moltissimi interventi sul mercato, volti a ridurre o aumentare i prezzi in funzione delle condizioni, se fatti in maniera coordinata, costerebbero molto meno e soprattutto avrebbero molto maggiore efficacia. E poi politiche fondiarie per i paesi in via di sviluppo, governare questa corsa alla terra, governare questo enorme fenomeno, drammatico fenomeno del land grabbing che va in qualche modo governato. Vi dico solo un dato, in Cina di questo fenomeno non se ne occupa il Ministero dell'Agricoltura, ma il Ministero della Difesa. Così come una cosa drammatica e che magari non associamo spesso è il tema dei pirati, dei pirati del golfo. In realtà sono queste navi cariche di cereali, noi per esempio siamo grandi importatori di grano dall'Australia, non passano più dallo stretto di Suez, ma fanno il giro dell'Africa per paura che questi grandi navi cargo possono andare in altre direzioni. Tutto ciò non accade tra 20 o 30 anni, ma sta accadendo oggi. Occorrono quindi regole comuni, occorre che una governance globale che possa in qualche modo riuscire a dare le risposte a questi grandi fenomeni. Le risposte le potremo dare se saremo capaci di avere una logica internazionale e di riuscire a guardare il futuro con più ottimismo, ma con più conoscenza.